E ciao ragazzi, finalmente farò l'estazione del vincitore del contest dei 1000 iscritti Allora, scusatemi molto se pubblico il video verso le 9 di sera O anche più tardi, non lo so, dipende da come va la connessione Comunque, scusatemi se lo pubblico veramente tardi, cioè il 19 di sera Ma purtroppo sono molto occupato, come ho detto anche nello scorso video Quindi scusatemi molto per questo cavolo di ritardo Comunque, non sono qui a scusarmi, ma sono qui a estrarre i due vincitori del contest Prima di tutto estrarrò il vincitore del primo premio, cioè i giochi che vengono riscattati tramite Steam Quindi adesso andiamo subito a prendere il mega barattolone con dentro i bigliettini Non so se si sente, sentite qua, sono circa una quarantina, quindi ci sono 40 partecipanti Ok, adesso vi faccio vedere sempre se si riesce a vedere un qualcosa con sta cavolo di webcam Ecco qua, qua ci sono i fogliettini che prenderò uno a caso In questo barattolo qui c'è il vincitore del primo premio Quindi momento di suspense Ravaniamo un po', ravaniamo, dai Ok, momento di suspense Non so chi sia Era l'incontrario Si chiama Danilo Arcopinto Non so se si riesce a vedere qualcosa Qua c'è la sua foto Profilo di Youtube in bianco e nero Perché ho dovuto stampare in bianco e nero per risparmi al colore Comunque è lui il vincitore dei giochi riscattabili tramite Steam Ok Danilo sei un gran Diciamolo pure Sei un gran fortunato Perché veramente su 40 E dico su 40 Tu sei il vincitore del premio più figo Veramente Ti faccio i miei complimenti Mi dispiace per gli altri che non hanno vinto nulla Ma a Natale farò un altro contest per ringraziarvi Quindi a Natale regalerò un'altra cosa A uno di voi Comunque invece il vincitore del secondo premio È molto difficile da scegliere Perché c'è solo un pirla che ha avuto anche il secondo premio Il vincitore del secondo premio Si chiama Skykilled Ecco qua facciamo vedere la mia webcam del 1800 Che è il vincitore Ah comunque qua sotto ho scritto premio 2 Perché voleva Cioè aveva scritto che gli piaceva anche vincere il primo premio Quindi ho fatto due bigliettini suoi E uno l'ho messo da parte Cioè questo perché è l'unico che ha scritto anche il secondo premio Quindi i vincitori del contest sono Per il primo premio Danilo Arcopinto E per il secondo premio Skykilled Quindi boh Verrete contattati tutti e due Tramite Un messaggio di Eh sì di Facebook No cazzo sto Tramite messaggio YouTube Danilo e Sky Verranno contattati da me Gli chiederò se preferiranno ricevere i codici tramite email Facebook O qualunque altro posto Voi mi direte poi quale preferite E il codice vi sarà inviato di domani Più o meno da domani in avanti Quando volete vi invio il codice Nel assavente grazie a tutti per l'attenzione di questa Schifosissima estrazione dei vincitori E boh Al prossimo contest Ciao ragazzi